La sicurezza in ambito librario è una delle priorità di ISNG e in un momento così critico come quello che stiamo vivendo è stato l'obiettivo principale dei nostri colleghi. ISNG è in aiuto dei bibliotecari, delle biblioteche, attraverso un sistema di sanificazione a tecnologia UV. È una macchina molto semplice, costituita da un vano che può accogliere fino a quattro libri e nel quale agiscono delle lampade UV ultraviolette che emettono una luce a componente C, quindi la componente dell'UV che si rivela molto efficace nel contrastare i batteri. Il posizionamento dei libri può avvenire facilmente e chiudendo lo sportello non rimane che attivare l'avvio del ciclo e quindi l'azione battericida delle lampade ha inizio ed è coadiuvata anche da un flusso di aria ciclonico che provvede a sfogliare delicatamente le pagine del libro. In questo modo la sanificazione avverrà non solo all'esterno ma anche all'interno. La sicurezza è una delle caratteristiche principali della nostra stazione in quanto il vetro è un vetro particolare anti UV blindato e se per qualsiasi motivo venisse aperto lo sportello durante la lavorazione, il ciclo si interrompe rendendo l'operazione estremamente sicura ed efficace.